Per voi. Perché gli arriva tutta quella roba? Hanno perso tutto. Fuggono dalla guerra. Cancellano quella foto! Mi dispiace per quello che hanno fatto. Non mi sorprende se senti le cose che dicono al pub. Questa qui è diventata una discarica. Abbiamo passato tutta la vita in questo paese. E dovremmo dividerlo con quelli là. Ma chi li conosce? Grazie per la sua gentilezza al nostro arrivo. L'ho apprezzata molto. Mi chiamo Yara. Piacere. Il suo nome? Tommy Joe Ballantyne. Quando ero piccola, volevo fare la fotografa e girare il mondo. Se hai un momento, vieni con me giù al pub. Quando mangi insieme, resti insieme. Me lo diceva mia madre. Qui è tutto chiuso. Pure la scuola è andata. Andiamo di male in peggio, vero? Immagina tutte le famiglie che si mischiano e mangiano insieme. Quando mangi insieme, resti insieme. Resti insieme. Vado. Via. Theodok. Ci serve. È diventato un campo profughi. Sta' attento a come parli. Ma che parla stai fermo? Non è beneficenza. È solidarietà. Siamo noi che facciamo qualcosa insieme. Ci vuole forza per costruire qualcosa di bello.